Eni analisi mensile ottobre 2020 allora aggiornamento anche su questo titolo molto seguito che ne sta passando un po' di tutti i colori situazione abbastanza analoga al video di ieri di Tenaris perché andiamo a vedere allora avevamo sottolineato nel precedente video che Eni si è emossa per tanti anni su diverse fasce di prezzo e questo muoversi su diverse fasce di prezzo ha dato sempre spunto possibilità agli operatori di operare praticamente in trading range quasi sicuro e non ultima la fascia di prezzo dal 2015 al 2020 momento poi in cui come abbiamo visto il prezzo ha rotto questo pavimento al ribasso e il prezzo è poi insomma crollato con la candela di marzo fino praticamente al livello di 6,30 questo livello che non avevo segnato lo segniamo subito come il minimo della candela di marzo perché oltre a essere un livello spartiacque sui grafici un po' in generale molto importante segna anche la situazione cioè è anche il prezzo e anche il livello dove quota adesso il prezzo quindi molto interessante per definire la possibilità di entrare o non entrare su questo titolo in che modo tra l'altro vorrei farvi notare come questo livello del minimo di marzo corrisponda praticamente a questi massimi comprati lontanissimi dal 96 guardate praticamente nel 96 aveva aperto il titolo quotando nel 95 96 poi aveva stornato un pochettino e qua la candela dell'aprile del 96 ha comprato massimi e questa qui diventa quindi a tutti i fatti a tutti gli effetti un'area dove i compratori si sono fatti vivi in maniera abbastanza importante guarda caso è proprio un livello il livello più lontano perché il titolo su questi livelli non era mai più arrivato dove il prezzo si è fermato praticamente a marzo adesso è chiaro che segnerei a questo punto visto che ci siamo così vicini e non è escluso che si possano testare i minimi assoluti quindi praticamente si parla di 5 euro 5 euro e 0,9 insomma più o meno all'incirca questo è il prezzo vedi abbiamo questi due livelli uno il minimo di marzo uno il minimo assoluto e che cosa ci dicono le candele di questi mesi fondamentalmente non ci dicono anche qui niente di buono candele che vendono costantemente minimi prezzo orientato terribilmente al ribasso praticamente dal 2018 minimo, massimo, minimo e poi boom discesa con la rottura del livello di praticamente 12 12,50 titolo destinato evidentemente a scendere ancora perché la candela di questo mese di ottobre sembra voler vendere i minimi della candela di settembre chissà se venderà anche i minimi che un po' l'ha già fatto ma diciamo che adesso il prezzo è lì della candela di marzo quindi sicuramente tutta questa fascia di prezzo qui in riassorbimento solito discorso diventa molto interessante per cercare un ingresso a mercato su un titolo che è vero che fondamentalmente scende quindi in questo caso dobbiamo avere molto disciplinato lo stop ma è anche vero che Eni è Eni quindi un titolo molto molto seguito un titolo molto importante del nostro panorama italiano quindi che fare sicuramente dobbiamo aspettare perché dobbiamo intanto prendere più informazioni possibili per avere le probabilità maggiori dalla nostra parte che cosa vuol dire vuol dire intanto verificare vedere come chiuderà il mese di ottobre se venderà minimi se venderà minimi di marzo se li riassorbirà se non li venderà quindi questa sarà un'indicazione importante il 3 novembre con le presidenziali americane avremo un buon aumento di volatilità e magari su quel su quel store se il mercato dovesse stornare un po' se il mercato dovesse scendere anche in maniera repentina avremo l'occasione magari di cercare su questa fascia di prezzo o sull'ultimo minimo assoluto una la possibilità di un un entry in che modo sempre verificando che su un time frame più basso il ribasso si sia fermato se su un daily io verifico che le candele cominciano ad esempio a non vendere più minimi non vendere massimi e c'è una situazione di diciamo pace si comincia a formare una situazione di tranquillità su un livello che sembra non essere più venduto nel momento in cui la candela comincia a dimostrarmi un po' più di forza il riassorbimento di uno di questi livelli posso decidere di entrare con uno stop sul minimo della candela che mi ha dato la possibilità di entrare quindi ci sono assolutamente tutti i presupposti per una situazione interessante dobbiamo in questo momento avere pazienza e affidarci al grafico che ci dà sempre tantissime informazioni utili a patto chiaramente di saperle leggere quindi direi che non ci sono altri elementi da sottolineare nel caso anche qui dovessimo riuscire a prendere un long abbiamo aspettate che io queste qua le voglio convertire verdi perché sono fondamentalmente tra virgolette supporti non mi piace chiamarli ok quindi come primo target importante avrei di nuovo quest'area qui tenuto conto che è molto distante ci sono delle aree di intermezzo forse di nuovo anche come area diciamo intermedia sicuramente questa o anche questa qua sotto cioè le aree dove praticamente pesantemente sono stati venduti minimi quindi dove c'è stato un ingresso importante di venditori il mercato è facile che su quel livello abbia memoria del fatto che lì siano entrati in massa venditori quindi il prezzo accelerato fortemente è facile che tornando su quel livello il prezzo possa almeno in prima battuta trovare ostacolo trovare difficoltà quindi cercate sempre di avere chiara l'approccio all'operazione che decidete di adottare quindi se poi voi avete pensate di aver trovato l'occasione della vostra vita comprando Eni a 5 euro a 5,10 a 5,20 e volete tenervela per i prossimi 3-4 anni a quel punto ve ne fregherete di questi tra virgolette livelli intermedi punterete sicuramente come primo livello a 12 magari poi su questo livello liquidando una parte e poi procedendo su questi livelli successivi tenete conto che tutta questa fascia di prezzo che va questa fascia di prezzo alta che va da 15,64 a 16,80 non è mai stata rotta dal praticamente dal 2015 quindi attenzione il prezzo adesso è distantissimo stiamo parlando di fantafinanza di fantatrading però giusto per dare all'aggiornamento un po' più di spessore e un po' più di informazioni a vostre mani anche perché Eni è un titolo importante il prossimo aggiornamento a meno che non ci siano cose straordinarie sarà tra 2-3 mesi e di conseguenza praticamente con l'anno nuovo quindi se vi interessa avere un quadro completo anche di quanto detto finora andatevi a rivedere i video precedenti sul canale cercateli ci sono credo che su Eni ce ne siano almeno altri due e magari potete completare tutte le informazioni che ho aggiunto nel corso delle 2-3 analisi ultime nell'ultima analisi rispetto alla prima quindi abbiamo le nostre indicazioni vediamo vediamo se il prezzo continuerà al ribasso in questi giorni in cui aumentano le tensioni aumentano le preoccupazioni e sembra aumentare anche il numero di contagi che poi insomma in questo momento danno anche origine a movimenti magari bruschi vediamo se il prezzo continuerà al ribasso e vediamo dove comincerà a farci sembrare di fermarsi a farci sembrare